Medaglia d'oro alla cultura italiana in Argentina conferita ad Umberto Eco. Il 27 settembre la Farnesina ha ospitato la cerimonia di consegna del premio che viene assegnato ogni anno dal 1999 a personalità contraddistinte per la diffusione della cultura italiana nel paese sudamericano. L'evento, organizzato dal Ministero degli Esteri e dalla Società Italia-Argentina, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, simboleggia il legame storico e l'affinità culturale tra i due paesi. Il contributo unico che lei, caro professore, ha saputo fornire all'evoluzione della società contemporanea mondiale. Raramente, infatti, un intellettuale italiano è riuscito come lei ad interpretare in modo così acuto la realtà sociale fino a diventare uno dei massimi cultori mondiani nel campo della comunicazione, dei media e della cultura di massa. In campo letterario poi lei è stato capace di proporre una narrazione assolutamente originale, con registri storici e stilistici diversi, che ci ha regalato una chiave di lettura illuminante della nostra realtà e dei problemi del nostro tempo. Voi sapete che gli argentini hanno una strana abitudine. Dopo mezzanotte, dopo mezza bottiglia di whisky, si riuniscono tristissimi tra di loro e discutono sul ser argentino. Dice, cosa vuol dire essere argentini? Non riescono mai a chiarirlo bene se non in un senso, che sono profondamente europei. L'Argentina è il paese più europeo del continente americano. Dico, non dell'America Latina, su, sino al Canada. Pur avendo declinato in modo personalissimo la loro cultura, e se pensi alla letteratura o alla musica, lo hanno fatto facendo fiorire e vivere continuamente una cultura di tipo europeo. Poi ho dei miei ricordi personali perché nel mio primo viaggio in Argentina, siamo nel 70, però ho fatto il paese da Tucumán a Bahia Blanca. Anzi, nell'aereo per Bahia Blanca la mia valigia è stata perduta ed è stata ritrovata con modoro. Quindi posso dire, almeno con l'aiuto della mia valigia, ho viaggiato quasi sino alla terra del fuoco. E quindi ho la nostalgia di notti bellissime a Lavage, del Boccassio con Piazzolla e Anelita Baltar, eccetera, eccetera. E non a caso, nell'inizio del mio romanzo Il nome della rosa, dopo mezza pagina, c'è la citazione di una libreria vicino a un patio del tango in Corrientes, dove io ritrovo un libro naturalmente inventato e misterioso. Ecco, questa è l'Argentina per me e quindi voi capite quanto possa essere riconoscente a tutti voi, in particolare agli amici argentini che, come ha detto un altro signore, sono venuti dalla fine del mondo così per festeggiarmi. Grazie.